Tonia, parliamo di una storia che ci ha particolarmente colpito 30 anni fa, il 26 luglio del 1992. Tutto succede una settimana dopo il massacro di Via D'Amelio in cui furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e i suoi cinque agenti di scorta. C'è una storia parallela a questa, quella di una ragazza di 17 anni, grande coraggio, si chiama Rita Atria, muore e suicida proprio quel giorno. Noi abbiamo qui Giovanna Cucè, collega del TG1, che insieme a Nadia Furnari e Graziella Proto ha scritto questo libro, Io sono Rita. Innanzitutto chi è Rita Atria? Rita Atria è stata la testimone di giustizia più giovane d'Italia, quella che ha messo la sua vita nelle mani di un giudice come Paolo Borsellino, il primo ad indagare sulle famiglie mafiose della Valle del Belice, per intenderci quello era il mandamento mafioso di Don Cincio Messina Denaro, il padre di Matteo Messina Denaro, il latitante più ricercato. Lei fa nomi, cognomi, racconta tutto quello che sa, un padre ucciso dalla mafia, stessa cosa, per stessa sorte, purtroppo per il fratello a un certo punto decide di raccontare, lo fa con grande coraggio, però probabilmente poi le istituzioni non le sono state accanto sino all'ultimo, lei era una minorenne e finirà, almeno così dicono le indagini, quelle che noi attraverso questo libro abbiamo cercato un po' di mettere in discussione, ponendo degli interrogativi finirà su un marciapiede dopo un volo dal settimo piano, dal numero 23 di Viale Amelia, quartiere Tuscolano a Roma, dove era stata posta sotto protezione. Rita scrive alla sorella, nella sua ultima lettera, lo leggo dal tuo libro, farò della mia vita anche della spazzatura ma lo farò per ciò che io sola ritengo conveniente. Che cosa vogliono dire queste parole? Queste parole vogliono dire, queste parole scritte, Maria, alla sorella prima di lasciare Partanna, prima di lasciare la sua casa, dice un po' ai suoi salvatevi perché io adesso prendo la mia vita e decido di farne, c'è soltanto che io ritengo giusto in questo caso parlare con la giustizia. Perché ricordiamo Rita aveva 17 anni, non è facile per una ragazza giovane mettersi contro un sistema enorme come quello della mafia, era figlia di un boss, lo hai appena detto. Figlia di un boss, lei decide di collaborare soltanto perché ha accanto un giudice come Paolo Borsellino che per lei diventa come un padre, però probabilmente, questo ce lo dice anche Lucia Borsellino nello speciale che abbiamo mandato in onda la settimana scorsa, probabilmente però non si è sentita accanto le istituzioni esattamente come mio padre le aveva fatto vedere che dovesse essere. Quindi dentro c'è questo e nel lavoro di ricostruzione che abbiamo fatto assieme all'associazione antimafie Rita Atria, assieme alla testata alle siciliane con Graziella Proto, noi abbiamo visto come è stata gestita o meglio consentimi Maria, come non è stata gestita questa minorenne, perché si tratta di una minorenne a Roma a partire da quell'appartamento che le è stato dato in Viale Amelia, numero 23. Giovanna, voi avete fatto un gran lavoro con Io sono Rita, questo libro veramente bello che invito tutti a leggere per ricordare la vita di questa ragazza giovane e c'è una storia nella storia intanto avete addirittura spulciando le indagini ascoltato la voce di Matteo Messina De Naro il latitante numero uno in Italia. Sì, perché l'abbiamo trovato leggendo la sentenza, le motivazioni della sentenza del processo alla mafia belicina ci siamo resi conto che il giudice faceva riferimento alla deposizione di un test, questo test era Messina De Naro Matteo e ci siamo tuffati dentro gli archivi del Tribunale di Marsala che ha messo a disposizione ovviamente tutti gli assistenti e dobbiamo ringraziarlo per questo perché in quegli archivi noi abbiamo preso un pezzo di storia giudiziaria che probabilmente manca e abbiamo tirato fuori questa deposizione considerare il marzo del 1993, due mesi dopo diventerà latitante perché a quel mandato di cattura della procura ovviamente non sarà mai associato né un volto né un nome, lui sparirà e ancora si cerca. E allora forse questo è davvero il lascito importante del coraggio della giovanissima Rita Atria grazie a te per il tuo lavoro, grazie a Giovanna Cucè del Tg1